Comieco è qui con questa struttura, pala Comieco perché vuol far toccare con mano alla cittadinanza di Brindisi cosa avviene dopo che si è raccolto carta e cartone presso le famiglie della città. Qui dimostriamo con un percorso semplice e breve cosa praticamente avviene, come da un rifiuto si passa a un riciclo e quindi ad un nuovo materiale che sempre carta è, che sempre imballaggi saranno. Questo lo facciamo vedere a tutti, a cominciare dai ragazzi delle scuole che sono come sappiamo il nostro futuro, sono quelli che portando quello che hanno visto a casa possono influenzare l'atteggiamento e il comportamento delle proprie famiglie più di quanto possa fare un capofamiglia. Ai ragazzi noi prestiamo molta attenzione, dico noi cittadini in genere, e in loro è riposta la speranza di un futuro migliore. Migliore perché recuperando carta e cartone, come del resto altri materiali, ma io parlo per Comieco quindi mi ripeto, carta e cartone, noi possiamo ricorrere a rifare nuovamente imballaggi con la carta riciclata.